Ciao a tutti amici di PolarTV, siamo qui nella sala gamma di Torre Boldoni questa sera per la conferenza sulla paura della diversità. Qui con noi abbiamo il relatore, che è l'illustre firma inviato ed editorialista del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella. Ci sono diverse forme di razzismo sul web, quale può essere considerata la più pericolosa e quindi può influire di più sulla realtà, sulla vita sociale vera? Credo che ci siano dei confini che sono abbastanza visibili. Quando una persona si sente offesa, lì c'è il razzismo. Dopodiché non è detto che sia fatto di parole il razzismo, non è solo parole. Faccio un esempio. Il mio amico Santino Spinelli, rom, professore universitario e musicista, ogni volta che qualcuno dice la parola zingari la considera un'offesa. Però io devo dire onestamente, gliel'ho detto anche a lui e lo ripeto, che quando Paolo VI chiama i fratelli zingari o Giovanni Paolo II chiama i rom zingari o quando Olio Vergani scrive delle cose bellissime sugli zingari della Bassa Padana, la festa di Gonzaga nel 1953, io devo dire che gli esempi più belli di dialogo con gli zingari sono di persone che li chiamano zingari. Se tu fai di una parola un feticcio, sbagli. Questo vale per gli zingari, vale per tante altre cose. Insomma il razzismo e anche l'antirazzismo sono due cose serie, che vanno anche oltre le parole. Tu puoi essere un fottutissimo razzista, pur essendo magari rispettosissimo dal punto di vista formale delle parole. Cosa può fare una persona comune per arginare e contrastare la xenofobia online? Alla larga da ogni forma di violenza, perché se no la violenza risponde con violenza, cioè non esiste. Convincere dei fanatici che hanno torto è altrettanto complicato. Io credo che invece massaggiare, nel senso di sollevare una tempesta via web, per dire contro i siti di partiti che proteggono dei razzisti o ministeri che non fanno il loro dovere, eccetera, eccetera, questa sia una cosa fattibile. Quanto i mass media e la cultura possono influenzare sul pensiero del pubblico? Tantissimo, tantissimo. Ma sia in positivo che in negativo? Altro che sia in positivo che in negativo. Perché se tu per esempio fai notare sui giornali o in televisione il diverso trattamento che viene fatto nei confronti dello stesso reato, lo stesso identico reato. Io ricordo una ragazza drogata che a Padua, tre o quattro anni fa, prese sotto con la macchina una famiglia di rumeni, la sterminò, morirono tutti. Beh, fosse successo il contrario, la Padania e altri giornali si avrebbero andati avanti per settimane a chiedere la testa del colpevole. Essendo italiana, avendo ammazzato i rumeni, segnalare questo, mettere le persone davanti a queste contraddizioni è importante. Io ho sempre trovato abbastanza curioso e ambiguo lo specificare la nazionalità di chi commette il reato appunto. In quanto io considerandomi cittadino del mondo, penso che se qualcuno commette un reato, che sia italiano, che sia straniero... Ti può anche scappare, se tu racconti una storia, non so, racconti la storia di Erika e Omar, due ragazzini dell'Appennino Ligure Piemontese hanno ammazzato la mamma. Non c'è niente di razzista nel precisare che sono dell'Appennino Ligure Piemontese, però devi farlo sempre. Se tu invece dici solo, dici solo, quando si tratta di un marocchino, di un tunisino, di un albanese, eccetera, eccetera, e poi segnalare, visto che il problema di albanesi, che le cose cambiano. Quando io ho scritto quando gli albanesi eravamo noi, se io lo riscrivessi adesso dovrei cambiare. L'avessi riscritto due anni fa avrei dovuto scrivere quando i rumeni eravamo noi. Perché gli albanesi, non so se l'avete notato, sono forse quelli che si sono inseriti meglio. Quindi vuol dire, quello che dicevamo una volta, e che abbiamo spiegato in mille salse, anche nell'Orda, e cioè che con l'immigrazione occorre avere un pizzico di pazienza, esattamente come gli altri l'hanno avuta con noi. Perché la prima immigrazione è sempre ustionante, e poi mano a mano la gente si inserisce, mano a mano soprattutto quando arrivano le donne, perché la donna è la vera protagonista positiva di ogni immigrazione. E lei che, come dire, addolcisce il lupo, che all'inizio deve muoversi in una giungla, che non conosce, deve sopravvivere, e poi arriva la donna, arrivano i figli, arrivano i cuccioli, e tutto si stempera nella società. Cari amici di PolarTV, segui l'orso, in bergamatco non lo so dire, al massimo provo a fare i cacch, le ho cacch, i cacch, i cacch, i cacch, i cacch.